Ci troviamo a Savona all'ingresso della fortezza del Priamar, sapete perché si chiama così? Si chiama così perché sorge proprio su una collina davanti al mare che si chiama Priamar, è molto antica, fu costruita all'inizio tra il 1542 e il 1544, poi nei secoli fu naturalmente ampliata, diventò sempre più grande, ora è veramente grandissima questa fortezza, è una delle più grandi attrazioni turistiche di Savona. Ma pensate che il posto in cui sorge è uno dei luoghi in cui sono stati trovati i primi insediamenti abitativi, cioè i primi resti delle case delle persone che vivevano qui. E sapete a quanto risalgono? A moltissimi anni fa, addirittura a 1600 anni prima che nascesse Gesù Cristo, in quella che si chiama quindi Età del Bronzo. Nei secoli questa fortezza è diventata un sacco di cose diverse, è stata appunto una fortezza militare, ma adesso è un posto in cui si può venire a giocare sotto i pini, a fare le passeggiate in estate, si può venire a visitare un museo, si può venire anche a prendere un aperitivo insieme ai genitori, un gelato, e addirittura si può venire alla sera a vedere degli spettacoli o anche al cinema, perché nella piazzale del maschio si fanno appunto degli spettacoli. Ma sapete che cosa c'è? Che non ci dovremmo mai dimenticare che tra le tante cose che questa grandissima fortezza è stata, ce n'è una che fa un po' paura. Questo luogo un tempo è stata una prigione. E siccome vi ho parlato di prigione, mi sono messa davanti a questa grata proprio per raccontarvi un attimo di che tipo di prigione stiamo parlando. In questa prigione furono rinchiuse varie persone, ma una è molto più famosa dell'altra, perché si chiamava Mazzini ed è stato uno dei grandi eroi del risorgimento italiano. Lui fu rinchiuso nella fortezza del Priamard tra il novembre del 1830 e il gennaio del 1831. Durante questo periodo si trovava in una cella e se volete potete andarla a visitare, perché è aperta al pubblico per le visite e durante questo periodo appunto lui portò a compimento la sua idea di come avrebbe voluto che fosse l'Italia. Lui credeva che l'Italia dovesse essere unica, unita, libera e repubblicana. E tutte queste cose le condensò nel suo pensiero che prese un nome, un nome che era anche il nome del movimento che lui animava, che si chiamava Giovine Italia. Siccome abbiamo parlato di prigione, adesso vi ho portato all'interno della fortezza proprio accanto a quelle che una volta erano delle cellette. Vi ho portato qui per parlarvi di tutta quella musica che ha a che fare con la prigione. Voi non ci crederete, ma ce n'è veramente tantissima. Ci sono canti di prigionia, ci sono canzoni e ci sono soprattutto opere liriche. Ma sapete cos'è un'opera lirica? Un'opera lirica è una rappresentazione teatrale fatta dai due parti. Una parte musicale e una parte letteraria, cioè scritta con le parole. Scritta a volte proprio da poeti che scrivono i loro versi per darli ai musicisti che poi comporranno delle musiche su queste parole. Un po' come avviene per le canzoni, ma con una differenza che le canzoni durano molto poco. Mentre invece un'opera lirica è una grande rappresentazione in cui cantano le persone e un'orchestra suona e che racconta una storia molto lunga. La storia che vi voglio raccontare oggi appartiene a un'opera di un signore tedesco che si chiamava Ludwig van Beethoven nato nel 1770 e morto nel 1827. Quest'opera fu scritta tra il 1803 e il 1805 e racconta la storia di un uomo molto cattivo che si chiamava Don Pizzarro che era il governatore di una prigione vicino Siviglia. Questo signore ad un certo punto aveva molto in antipatia un altro signore che si chiamava Florestano e per motivi assolutamente personali senza che Florestano avesse fatto nessun delitto lo mette in prigione. Florestano però aveva una moglie una moglie molto innamorata che si chiamava Leonora. Leonora ad un certo punto incomincia a pensare che ha voglia di rivedere il marito e si fa venire un'idea. Si traveste da un uomo e si presenta alla prigione con il nome di Fidelio. Lì conosce un carceriere è proprio quello che ha le chiavi della cella di Florestano. Fa amicizia con Rocco e grazie proprio a Rocco andrà avanti l'azione sulla scena fino al momento in cui il giorno dell'arrivo del ministro nella prigione di Don Pizzarro verranno a scoprirsi tutti gli inganni che ha fatto Don Pizzarro per mettere in prigione Florestano. E così l'opera finirà con un grande canto alla libertà perché in effetti il cattivo che aveva imprigionato una persona non colpevole verrà smascherato. Ci troviamo nella parte più alta della fortezza del Priamar proprio accanto a questo minaccioso cannone perché l'opera della quale sto per parlarvi inizia proprio con un colpo di cannone. L'opera si chiama Tosca ed è stata scritta da un signore che si chiamava Giacomo Puccini sul libretto di altri due signori che si chiamavano Illica e Giacosa. Quest'opera ha una caratteristica o l'intero terzo atto ambientato in una prigione. La prigione è quella di Castel Sant'Angelo e si trova a Roma. L'opera è tutta ambientata a Roma. La storia è questa. È la storia di una cantante bella, bellissima che ha un fidanzato che fa il pittore. Lei si chiama Tosca e il fidanzato si chiama Mario Cavaradossi. Mario Cavaradossi è considerato un rivoluzionario semplicemente perché lui, come vi ho detto di Mazzini anche lui vorrebbe che l'Italia fosse libera, fosse unita e siamo nel 1800 un periodo in cui l'Italia non è la stessa che noi conosciamo oggi. Un colpo di cannone ha dato, ha annunciato alla città di Noma che è scappato un prigioniero dalla prigione di Castel Sant'Angelo. Il prigioniero si chiama Angelotti ed è andato a rifugiarsi in chiesa dall'amico Mario che lì sta dipingendo un quadro della Maddalena. Mario decide di nasconderlo nella sua casa e quando arriva lì Tosca Mario è preoccupato dice cose, non dice dice no vabbè ma stasera forse non possiamo andare a casa. Tosca si ingelosisce perché lei è terribilmente gelosa ed è convinta che a casa di Mario sia nascosta un'altra fidanzata così quando in chiesa arriva anche Scarpia che è il capo della polizia Tosca dice una parola di troppo e mette il capo della polizia sulle tracce di Angelotti fuggito da Castel Sant'Angelo. Il secondo atto è terribile perché in effetti Scarpia ha scoperto Angelotti e Mario e ha arrestato Mario e lo sta torturando per sapere tutta la verità. Tosca ovviamente è in lacrime chiede al cattivissimo poliziotto Scarpia di salvare Mario e Scarpia dice sì va bene lo posso salvare ma le chiede in cambio qualcosa che non è possibile chiedere chiede in cambio addirittura Tosca stessa. Lei naturalmente non cede non cede e fa una cosa ancora più brutta ovvero sia uccide Scarpia ma ad un certo punto è l'alba lei ha avuto da Scarpia la promessa che Mario sarà a salvo e quindi scappa fino alla fortezza di Castel Sant'Angelo dove Mario è imprigionato e gli dice non ti preoccupare adesso faranno soltanto finta di condannarti a morte faranno finta di spararti ma ci saranno soltanto i proiettili a salve nei fucili quindi quando tutti i poliziotti ti saranno andati via tu ti alzerai e noi scapperemo insieme ma quella era soltanto l'ultima beffa di Scarpia in realtà i fucili non erano caricati a salvo sparano e Mario, poverino cade a terra morto per non rialzarsi mai più a Tosca non resta altro che buttarsi da Castel Sant'Angelo è un'opera veramente con una storia terribile tristissima ma come come Fidelio parla di una donna che ama il suo uomo e che vuole la libertà per il suo uomo sono tutte e due opere che parlano di giustizia di carcerazioni ingiuste e di un grande desiderio di libertà e con questo abbiamo finito il nostro giro qui nella fortezza del Priamar siamo stati qui per raccontare due storie molto diverse ma che hanno qualcosa in comune nella storia di Fidelio e la storia di Tosca parlano entrambe di prigionieri che sono stati messi in carcere per ragioni che non hanno a che fare con un delitto particolare ma che hanno a che fare con la volontà di difendere l'idea di libertà l'idea di patria esattamente come è avvenuto a Giuseppe Mazzini che proprio qui nella fortezza del Priamar è stato rinchiuso per diverso tempo e allora forse non dovremmo mai dimenticare che un altro grande poeta che si chiama Dante Alighieri nella sua Divina Commedia ha scritto dei versi che ci raccontano benissimo quanto è importante la libertà libertà va cercando che essi cara come sa chi per lei vita rifiuta che ci raccontano